Lui è Francesco, uno dei tanti volontari della Croce Rossa di Cosenza che in questi giorni sta girando in lungo e largo l'area urbana cosentina a distribuire derrate alimentari, pacchi spesa, alle famiglie bisognose e medicinali, alle persone anziane impossibilitate di uscire perché soggetti a rischio a causa del virus del covid-19. Noi siamo stati con lui durante proprio uno dei suoi giri in cui ha distribuito questi pacchi spesa. E' iniziata come un'iniziativa abbastanza ristretta ma visto il numero crescente di richieste che abbiamo avuto al nostro centralino abbiamo ampliato tantissimo la fascia di popolazione che stiamo assistendo, siamo arrivati a oltre 700 consegne nel giro di tre settimane con una media di 3-4 persone a famiglia, fate voi il conto, 2100-2800 persone che effettivamente hanno bisogno perché in questo momento ci rendiamo conto che è difficile magari anche farsi un po' di spesa. I mezzi della Croce Rossa che escono quotidianamente in questo periodo sono in tutto 4-5 per circa 70 e più consegne giornaliere. Abbiamo anche un altro servizio che è il pronto farmaco, cioè molte persone ci chiamano perché devono andare a ritirare dei farmaci in farmacia oppure alcune persone più anziane o immunodepresse vogliono che andiamo a fare la spesa per loro al supermercato, questo è un altro servizio che facciamo, consegniamo i prelievi delle persone anziane per evitare che magari escano e le portano al laboratorio. Tutti questi servizi abbiamo fatto ad esempio anche chi è ricoverato in ospedale, siccome non si può andare a trovarli, magari le persone anziane hanno bisogno di un cambio, di alcune cose, i familiari non possono andare, ecco noi andiamo a ritirare a casa e li portiamo in ospedale. Insomma, un'assistenza completa si può definire quella che svolge Francesco, volontario della Croce Rossa da ben 11 anni insieme ai suoi colleghi e come ha confermato sono numerosissime le donazioni che stanno ricevendo da parte di imprenditori o semplici cittadini come per esempio quella del centro commerciale Metropolis in Rende. Ha fatto sì che potessimo acquistare una barella ad alto biocontenimento con respiratore interno per portare tutti i casi di Covid-19 a rischio all'interno dell'ambulanza e per essere trasportati in maggiore sicurezza. Saremo la prima in provincia se non la prima in Calabria con questo tipo di dispositivi sulle nostre ambulanze. Una mole di lavoro quadruplicata, specie in questo periodo di emergenza sanitaria, viene svolta dai volontari della Croce Rossa. Una attività completamente a titolo gratuito. Io sono un volontario da 11 anni e ho visto tante emergenze ma sinceramente come questa l'utilità che trovo della Croce Rossa in questa emergenza è altissima. E nei prossimi giorni la Croce Rossa di Cosenza riuscirà a consegnare anche due ventilatori polmonari all'ospedale civile dell'Annunziata grazie ad una delle numerose donazioni che stanno ricevendo. Tra queste una delle donazioni è stata fatta da parte dei dipendenti della centrale operativa della Europe Assistance di Rende. Si sono autotassati e sono riusciti a donarci i fondi per acquistare due ventilatori polmonari che verranno donati all'azienda ospedaliera dell'Annunziata a Cosenza al reparto di pneumologia. Così da integrare i posti letto che già esistono presso questo reparto appunto per i casi di Covid-19. Noi speriamo che ovviamente l'emergenza finisca presto e che coinvolga il minor numero di persone.